In occasione dell'apertura straordinaria della regia di Carditello del 1 e 2 dicembre 2012, lo Slow Food Caserta indice il concorso Torta Annurca per sensibilizzare al consumo dell'annurca antica varietà di mela campana diffusamente coltivata in provincia di Caserta. L'iscrizione è gratuita per un massimo di 30 concorrenti e si effettua esclusivamente inviando entro il 29 novembre 2012 una e-mail a slowfoodcaserta-gmail.com con il proprio nome, cognome, telefono, nome del dolce e lista degli ingredienti utilizzati. Le torte in concorso dovranno avere tra gli ingredienti principali la mela annurca ed essere esclusivamente di produzione casalinga, quindi non professionale né industriale. Non sono ammesse le torte che utilizzano conservanti e conservanti sia artificiali che industriali. Inoltre dovranno essere consegnate il giorno 2 dicembre 2012, dalle 9.30 alle ore 11 presso la regia di Carditello, Sant'Ammaro. All'atto della consegna ad ogni torta verrà assegnato un numero progressivo che ne garantirà l'anonimato al momento della valutazione della giuria. La giuria sarà composta da membri della condotta Slow Food Caserta, tra cui anche chef, giornalisti e no gastronomici. Quindi a tutti quanti, successivamente alla premiazione, le torte ammesse al concorso saranno porzionate ed offerte al pubblico in cambio di un contributo volontario per sostenere le prossime aperture straordinarie del realzito di Carditello.